Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura la cronaca giudiziaria era infatti attesa per oggi la sentenza per Sandro Mugnai, l'aretino che uccisa colpi di fucile il vicino di casa dopo che gli aveva assaltato casa con una ruspa. La sentenza arriverà tra alcune settimane. L'8 ottobre alle 10. Tutto rinviato all'8 di ottobre anche per eventuali repliche. Slita così la sentenza come deciso dalla GUP Claudio Lara per Sandro Mugnai, l'artigiano che uccisa colpi di pistola il vicino di casa. La tragedia avvenne il 5 gennaio 2023 all'ora di cena a San Polo, frazione del comune di Arezzo. Il vicino Gesim Dodoli all'improvviso salì sulla ruspa e la lanciò contro l'abitazione. Mugnai prima gli urlò di fermarsi ma visto che questo proseguiva prese il fucile, regolarmente detenuto e fece fuoco. Un colpo risultò fatale. Questo uno stralcio della chiamata alla polizia. Guardi, c'è il vicino che mi ha buttato su tutta la casa, ha filato tutti i muri, ha filato ogni cosa. Venite su subito, mi raccomando. L'accusa per Mugnai è quella di eccesso colposo di legittima difesa. I suoi difensori di fronte al giudice hanno invece affermato che quell'azione è stata dettata da una situazione di pericolo non solo per se stesso ma anche per i familiari. E come avrebbe mai potuto muoversi diversamente? Ovviamente avendo un fucile io sarei morta. La pubblica accusa, sostenuta in aula dalla PM, Laura Tadei ha chiesto la condanna a due anni e otto mesi mentre le parti civili, la moglie di Dodoli e due figli hanno chiesto la riqualificazione del reato in omicidio volontario. È stato un periodo drammatico, soprattutto per il figlio più giovane che era molto legato al padre. E' chiaro che è un caso in cui parti svantaggiato perché il padre si è reso autore di un gesto stupido, dissennato. Poi, a mio modo di vedere, dalle carte è emerso in maniera chiara che quella casa non sarebbe crollata. Mugnai sarà giudicato con il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Ancora cronaca, un uomo di 32 anni è stato ferito ad Arezzo con un'arma da taglio durante una lite con una donna. I mezzi dell'altra Toscana sud-est sono intervenuti sul posto in centro ad Arezzo attorno alle 16. L'uomo è stato portato in codice giallo al pronto soccorso del San Donato. Non sarebbe in aggravi condizioni. Sul posto per racchiarire i contorni della vicenda, anche le forze dell'ordine. Un altro dramma è stato sfiorato, invece, durante un allenamento di basket. Ieri, nel tardo pomeriggio, una diciassettenna ha avuto un ammalore ed è stato rianimato mediante defibrillatore. La vicenda si sarebbe verificata all'interno del palazzetto dello sport a Mario D'Agata alle Caselle. Il giovane, che milita nelle file della Sbapa, restesse disputando un match amichevole quando avrebbe perso i sensi. Subito sono scattati i soccorsi e l'atlete è stato defibrillato. Sul posto sono accorsi, ovviamente, anche i sanitari del 118, che lo hanno trasportato alla San Donato, dove ancora si trova ricoverato. Il giovane non sarebbe comunque in pericolo di vita e questo episodio drammatico testimoni ancora una volta l'importanza della presenza capillare dei defibrillatori. E adesso Sanità, un avvisore 3D per alleviare ansia e dolori in terapia intensiva. La sperimentazione è partita proprio all'interno del San Donato. Questo è un sistema di autoipnosi audio-video che consente al paziente di estranearsi rispetto all'ambiente circostante, ambiente come quello della terapia intensiva, che è un ambiente ostile. Il dispositivo per l'ipnosi medica è in sperimentazione nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Donato di Arezzo. È dotato di un visore da indossare che riproduce una decina di realtà virtuali e da un paio di cuffie dalle quali ascoltare una voce registrata che aiuta la persona a rilassarsi e a distogliere l'attenzione da ansia e dolore. Noi l'abbiamo sperimentato da un paio di settimane, sia in pazienti svegli che devono essere sottoposti a delle procedure di medio dolore, insomma, ad esempio inserimento di accessi vascolari di secondo livello, oppure pazienti in terapia intensiva affetti proprio da questo delirio, come vi dicevo prima, da terapia intensiva, e abbiamo notato dei giovamenti. Il dispositivo rimarrà in sperimentazione nel reparto per due mesi. Per la capienza, insomma, comunque il numero di pazienti che voi gestite attualmente nella terapia intensiva, quanti dispositivi servirebbero affinché si possano utilizzare, insomma, ragionevolmente per chi ne ha bisogno? Allora, la reanimazione di Arezzo mediamente fa mille ricoveri all'anno. Di questi mille, circa il 33% sono malati che, seppur gravi, non sono né sedati né in coma e quindi sono malati svegli. Quindi il numero giusto che a noi servirebbe sarebbero due dispositivi. Per quanto riguarda l'emergenza urgenza, invece, in arrivo entro fine anno 95 infermieri per l'Asla Toscana Sud-Est. Saranno 95 gli infermieri e le infermiere dedicati all'emergenza urgenza che entro la fine dell'anno faranno il loro ingresso nell'Asla Toscana Sud-Est. Il nuovo personale sarà distribuito nelle aree provinciali in base alle postazioni previste nel piano di riordino aziendale, dunque 33 nell'area provinciale Aretina, 28 in quella senese e 34 nell'area provinciale di Grosseto. Le nuove figure professionali saranno l'occasione per rimodulare e riorganizzare l'assetto dell'emergenza urgenza territoriale in linea con quanto previsto dalle direttive della Regione Toscana e recepite dalla direzione aziendale. L'obiettivo è dare una progettualità che garantisca da una parte il miglioramento dei tempi di intervento e dall'altra l'utilizzo di risorse professionali appropriate, spiega Vianella Agostinelli, direttrice del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche dell'Asla Toscana Sud-Est. Oggi questi nuovi ingressi ci consentiranno di dare alle postazioni di emergenza territoriale una miglior operatività e efficienza, offrendo la solida stabilità del personale infermieristico assegnato ed anche investendo in modo consistente sulla formazione e valorizzazione delle competenze infermieristiche a vantaggio degli interventi in emergenza urgenza sul territorio dell'Asla Toscana Sud-Est. Infatti questi nuovi infermieri che entreranno a far parte della squadra del 118 saranno chiamati ad effettuare un accurato e nutrito percorso formativo per acquisire le competenze già possedute dai colleghi esperti che garantiscono da sempre le più qualificate risposte ai bisogni di emergenza urgenza nei nostri territori. Inaugurato il rinnovato cortile interno della casa di riposo Fossombroni, la presidente Deborah Tessi e il consigliere con delega al sociale Antonio Erauti, affiancati dal direttore Stefano Rossi, questa mattina hanno presentato gli esiti di un complesso progetto di riqualificazione che ha permesso di migliorare l'estetica e la fruibilità di uno degli ambienti centrali per socialità, aggregazione e tempo libero della storica struttura retina nota come Casa Pia. L'intervento ha interessato uno spazio di 330 metri quadrati e ha richiesto un investimento complessivo di quasi 70.000 euro. E Alessandro Giuli sarebbe dovuto arrivare ad Arezzo il prossimo 21 settembre per la rassegna alti scaffali, ma è stato annullato l'evento per incarichi istituzionali che arrivano a seguito della recente nomina a ministro. Per chi avesse acquistato il biglietto dell'evento può richiedere il rimborso. Si sposta invece alla Petrarca per questioni meteo all'evento di domani con Vittorio Emanuele Parzi. Ed invece ieri protagonista è stata Cecilia Sala. Giornalista del Foglio, inviata di guerra, scrittrice di toccanti racconti, autrice di podcast e volto noto televisivo, da poco rientrata dall'Ucraina. Cecilia Sala è stata così la terza ospite di Alte Scaffali, il festival dedicato alla politica e alla contemporaneità. Al Teatro Petrarca si è parlato anche dell'incendio, il reportage su una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan, pubblicato da Mondadori. Quando ho iniziato a scrivere questo libro che racconta i miei viaggi degli ultimi anni, non avevo in mente da subito di raccontare una generazione, quella dei ventenni, soprattutto dei più giovani. Ho pensato che fossero le persone giuste per raccontare il loro incendio, il loro contesto durante questi viaggi in Afghanistan, perché sono la generazione che è nata attorno al 2001, quando i talebani se ne sono andati, è diventata giovane e adulta attorno al 2021, quando sono tornati e quindi per raccontare il trauma del ritorno dei talebani, coloro che li avevano vissuti quasi come una invasione aliena, mi sembravano i più interessanti. In Ucraina c'è stata una protesta nel 2014, Euro Maidan, che hanno fatto i giovani. L'invasione di otto anni dopo è la punizione per il successo di quella protesta e sono di nuovo i giovani, come tutte le guerre, quelle che vanno a combattere e a difendere i successi di allora. In Iran c'è stata la più grande rivolta e protesta dall'inizio, da quando è nata la Repubblica Islamica nel 79, e in piazza c'erano soprattutto adolescenti e qualche ventenne, ma insomma già i 24-25 anni di dare della protesta erano i più anziani della piazza, quindi mi è sembrato che fossero i protagonisti di questi tre incendi. Oggi 17 settembre ricorrono gli 800 anni dalle stimmate ricevute da San Francesco alla Verna ed oggi la Comune di Chiusi della Verna ha sottoscritto un patto di amicizia con Assisi e al Santuario della Verna ci sono state le celebrazioni alla presenza di tutte le autorità, presente anche il Presidente della Regione Eugenio Gianni. Oggi accompagniamo come Regione, assieme al Comune di Firenze, ha dichiarato la firma di un patto di amicizia tra due comuni legati dalla tradizione francescana, chiusi della Verna con il Sindaco Tellini e Assisi con la Sindaca Proietti. Sentiamo adesso uno stralcio dell'Omeria durante la Santa Messa. Donaci Francesco la freschezza della tua fede, la certezza della tua speranza, la dolcezza della tua carità. Intercedi per noi perché ci sia dolce portare i pesi della vita e nelle prove possiamo sperimentare la tenerezza del Padre e il balsamo dello Spirito. Le nostre ferite siano sanate dal cuore di Cristo per diventare, come te, testimoni della sua misericordia che continua a guarire e a rinnovare la vita di quanti lo cercano con cuore sincero. O Francesco, reso somigliante al crocifisso, fa che le tue stimmate siano per noi e per il mondo segni splendenti di vita e di resurrezione che indichino vie nuove in modo particolare di pace e di riconciliazione. Auguri di buona festa e sia lodato Gesù Cristo. Il mondo in tasca di Fausto Casi, curatore scientifico e fondatore del Mumec, il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo, sarà presentato alla Camera dei Deputati. Il testo vuole celebrare i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi, 100 anni di radiofonia italiana e 70 di Rai. Lunedì 23 settembre alle 17.30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati in Piazza Montecitorio a Roma, l'evento vedrà l'introduzione dell'onorevole Tiziana Nisini e della dottoressa Valentina Casi, direttrice del Mumec. E adesso ci spostiamo a Cigiano. Il laborgo ancora una volta scommette sui giovani e così la festa dell'uva, del vino e dell'olio, edizione 2024 che si è conclusa con la scorsa domenica, arriva nel ventunesimo secolo. Passato, presente e futuro in un mix emozionante che a Cigiano, frazione del comune di Civitella in Valdichiana, si rinnova ogni anno con la festa dell'uva, del vino e dell'olio. Quattro giorni di tradizione culinaria portata avanti dalle donne di Cigiano, ormai un marchio di fabbrica. Dalla cena con il coniglio fritto al pranzo collocio, entrambi gli appuntamenti sold out. E poi la camminata, i mercatini insolidali, gli artigiani locali e quest'anno anche la rievocazione della battitura, grazie alla disponibilità della famiglia Lorenzini con i mezzi d'epoca della collezione di Mario Lorenzini, messi a disposizione non solo per l'attesissima sfilata della domenica mattina. Ecco perché scegliere di portare avanti questa tradizione che è un impegno importante? Allora, uno per il rispetto del mi babbo, due perché in fondo mi piace e tre perché magari è una giornata dove tutto Cigiano ci si raccoglie e poi niente, si rivede tutti i miei amici, tutti i trattoristi, che io senza di loro non faccio assolutamente niente. Noi, noi ragazzi senza loro trattoristi a oggi non siamo nessuno. Poi magari di mano in mano che si vede che si comincia a vedere e gli si ruba qualcosa, qualche idea, può darsi che si vada avanti anche da noi. Però per ora finché ci sono, tocca a loro questo servizio. Loro hanno la collezione di macchine agricole d'epoca più importante d'Europa. Io ho girato tantissimo, ma una collezione bella e completa come questa non l'ho mai trovata. Una festa che ha solide radici dunque, ma che guarda avanti. Nutrito il gruppo dei giovani della Proloco che hanno dato una bella mano a tutta l'organizzazione e si sono esibiti anche in due diversi momenti della festa. È l'avvenire, diciamo. Questo è un paese piccolino, quindi bisogna fare tesoro per i giovani che ci sono. Li stiamo introducendo, sia quelli più piccoli attraverso le scuole di ballo, attraverso il gruppo folkloristico, che quelli un po' più grandi, dando gli spazio per nuove iniziative, tipo lo spazio giovani che quest'anno ha caratterizzato la festa, diciamo, fra le undici e mezzanotte, diciamo, dando spazio a questi ragazzi che vogliono divertirsi, diciamo, giustamente. L'appuntamento è al 2025 con la certezza di un paese che ogni volta si riscopre comunità nel solco delle più profonde radici contadine trasportate nel ventunesimo secolo. Torna a Green Tour, il salone nazionale dell'agriturismo e dell'agricoltura multifunzionale che quest'anno è giunto alla ventiduesima edizione. Filo conduttore della manifestazione per il 2024 sarà l'intelligenza artificiale declinata ai settori dell'agricoltura e dell'accoglienza. A Green Tour porrà l'accento su come queste tecnologie siano alla base dell'evoluzione di questi settori, ma soprattutto si cercherà di capire se come l'intelligenza artificiale si è davvero rivoluzionando il settore agricolo e quello turistico. L'evento è in programma dal 25 al 27 ottobre 2024 all'Arezzo Fiere Congressi. E adesso la pagina dello sport. L'Alga Atletica apre la nuova stagione con la vittoria di tre titoli toscani. L'ultimo fine settimana è stato caratterizzato da un ricco programma di gare in più categorie dove gli atleti e le atlete della società retina si sono misurate nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci festeggiando un totale di 16 medaglie. La soddisfazione di laurearsi i campioni regionali è stata vissuta tra le allieve da Lorenza Le Silva della 2007 che ha trionfato nei 200 piani e tra i cadetti da Stella Arniani e Filippo Misuri, entrambi nel 2009, che sono arrivati primi rispettivamente nel salto con l'asta e nel salto triplo. Questa per stasera era l'ultima notizia. Mi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Mi ringrazio per l'attenzione.